Presidente Chioti, a che punto è lo stato di attuazione dei fondi comunitari per quanto riguarda la regione Abruzzo? L'abbiamo ripetuto più volte, ci sono stati incontri al Ministero degli Affari Regionali, con il Ministero del Sviluppo Economico, la regione Abruzzo è la prima regione del centro-sud per quanto riguarda la capacità di spesa dei fondi europei. Su alcuni assi, addirittura, diciamo anche meglio dell'Umbria, per cui noi siamo soddisfatti, nel senso che si può fare sempre di più, però le regioni che hanno una capacità di spesa più veloce della nostra sono anche quelle regioni che hanno meno fondi da spendere, perché noi rientrando nel sud, in particolare nel centro-sud, abbiamo una rotazione finanziaria maggiore. Senza tornare molto indietro, anche rimanendo ai fatti ultimi, con l'Europa avevamo un rapporto un pochettino particolare, soprattutto di credibilità e mi viene in mente il problema FIRA, non ultimo, degli ultimi anni. Ecco, la regione ha approntato una serie di, una rete di controlli per fare più trasparente la gestione della spesa comunitaria? Guardi, noi avevamo un problema di credibilità con l'Unione Europea e non solo con l'Unione Europea, avevamo un problema di credibilità con il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute per quanto riguarda la Sanità, con la conferenza delle regioni per una serie di questioni. Devo dire che per quanto riguarda l'Unione Europea, la prima azione politica è stata quella di adottare come giunta una sorta di indirizzo, di regolamento che, per quanto riguarda le procedure di controllo e vigilanza, che fossero il più stringenti possibile, cioè l'indirizzo che noi abbiamo dato a coloro che poi sono, diciamo così, coloro che seguono i progetti, coloro che devono attuare anche con delle funzioni specifiche che arrivano proprio dalla normativa europea, c'è uno stringente controllo, una grandissima attenzione, perché l'Abruzzo deve essere una regione che fa le cose fatte bene, è possibile, e quindi noi vogliamo che lo sia. Anche perché la trasparenza in questi casi, ma non solo la trasparenza, anche il fatto che le procedure siano costantemente monitorate, che siano costantemente magari valutate nel corso dello stato d'avanzamento, credo che sia la migliore soluzione a quelle che potrebbero essere anche valutazioni di tipo truffaldino, come ce ne sono state. I controlli preventivi servono proprio a rendere inferiore il rischio che ci siano poi delle malgestioni nella gestione dei programmi europei. L'Italia è un paese che non gestisce molto bene i fondi europei, e noi dobbiamo far fare bella figura non solo a Abruzzo, ma anche all'Italia. Dobbiamo cercare di migliorare. Grazie.